L'assistenza tecnica su elettrodomestici si chiama Paolucci. Paolucci Assistenza Tecnica Elettrodomestici è la soluzione ideale per ridare vita ai tuoi apparecchi di qualsiasi tipo e marca. Paolucci è inoltre il centro autorizzato Tecnogas e Smeg Professional. Contattaci al 349-369-4287 Salucci pasta fresca artigianale a Casinina di Auditore vicino d'Urbino per info 0722-362635 Hai mai pensato alla rosatura come trattamento? Un lusso alla portata di tutti! Grazie all'azione di vapore e ozono e con la possibilità di strumenti personali. Arresta la calvizie e vi addio a tutti i problemi di cuoco apprenduto con gli raggi infrarossi e prodotti specifici. La bottiglia del barbiere è il stylist Alberto a Casinina di Auditore. In un luogo particolare tra le fabbriche della zona industriale di Casinina di Pesaro sorge il piccolo santuario dell'Oasi della Pace di Santa Rita un luogo per un'esperienza che dona pace e serenità come la partecipazione ogni 22 del mese alle 20 e 30 ed ogni domenica pomeriggio alle 16 e 30 al Santo Rosario e preghiera di Santa Rita dedicato a tutti gli ammalati. Sempre più fedeli che testimoniano benefici nel corpo e nello spirito raggiungono questo posto fonte di grande serenità e spiritualità. Informazioni al 335 80 94 107 Visita il sito www.amoreperilsignore.com Siamo tornati sulla strada tavoletana, la provinciale che collega Tavoleto alla Romagna e per questo servizio, per questo collegamento siamo dentro una crepa della strada questa maestosa strada che ogni settimana vede a migliaia di persone transitare una delle tante crepe, come vedete ci sta in buona parte una persona i lavori ancora non sono iniziati. Continua il tour del presidente della provincia di Pesaro Urbino, Daniele Tagliolini che sta incontrando i sindaci e noi ora andiamo a sentire appunto il presidente della provincia di Pesaro Urbino sulle franze, sulle condizioni dell'entroterra e anche i sindaci maggiormente colpiti da questa emergenza ma al tempo nella provincia di Pesaro Urbino. È una situazione molto delicata perché a fronte di eventi calamitosi che sono avvenuti nel nostro territorio provinciale più di due mesi fa non è stato riconosciuto lo stato d'emergenza e ci troviamo nella difficoltà della gestione della viabilità ordinaria in questo caso poi Tavoleto ha iniziato questo ciclo di incontri con i sindaci di tutto il territorio provinciale per fare un attimo il punto e capire negli scenari più difficoltosi che tipo di strategia intraprendere con il sindaco di Tavoleto, il sindaco di Petriano, il sindaco di Tavuglia probabilmente metteremo in campo anche delle conferenze e servizi dedicate proprio per semplificare gli iter procedurali e capire che tipo di scenario intraprendere insieme alla regione e allo Stato. La provincia di Pesaro Urbino, questo inverno, è stata letteralmente nell'occhio del ciclone, il ciclone del maltempo una provincia martoriata e sepolta da Fran dove non sono stati pochi disagi ed ora i cittadini ed amministratori devono fare i conti i conti con i danni e i conti con il non riconoscimento di stato d'emergenza da parte dello Stato centrale il conoscimento dato alla vicina Emilia Romagna e non alla regione Marche. Dalla costa all'entroterra di tutta la regione i danni sono stati veramente ingenti e il presidente della provincia di Pesaro Urbino, Daniele Tagliolini continua il suo tour nell'entroterra martoriato dal maltempo. La logica di intraprendere questo percorso è di rendere coscienti tutti gli amministratori locali tutti pensano purtroppo che ci siano tante piccole priorità oggettivamente dobbiamo essere in grado di valutare le priorità di tutto il territorio provinciale questo percorso che abbiamo intrapreso è un tour non per vedere le bellezze che poi ci sono nel nostro territorio ma per intraprendere anche una gestione della viabilità dicevo ordinaria in maniera strategica il contributo dei sindaci diventa fondamentale in questo nuovo assetto delle province che noi abbiamo voluto interpretare come la provincia dei sindaci quindi il contributo attivo degli amministratori dei primi cittadini deve essere quello di intraprendere una strategia comune che porti poi a dei risultati noi abbiamo messo in campo piccole opere di intervento nelle prossime settimane che vanno un po' ad intraprendere la nuova filosofia che sarà quella di una manutenzione ordinare di creare delle squadre di lavoro che possono poi portare ad una manutenzione ordinaria questo è quello che faremo documenteremo poi tutto attraverso dei video lo state facendo anche voi fortunatamente perché tutti i cittadini si devono sentire parte di questo progetto non vogliamo sentirci soli la provincia oggi è una provincia di sindaci è una provincia che ha necessità di avere risorse certe non di avere dei prelievi forzosi da parte dello Stato siamo in grado con le risorse nostre con quelle che poi derivano dal nostro territorio provinciale di assicurare determinati servizi sono sicuro che se le risorse rimanessero nei nostri territori saremo in grado di avere una gestione molto più attenta e attiva di tutto quello che è manutenzione straordinaria oltre che una priorità per il nostro comune come ha detto il Presidente della provincia che questa mattina abbiamo incontrato è un'emergenza provinciale una priorità a livello provinciale che l'amministrazione provinciale ha ribadito anche questa mattina quello che si cerca di fare intanto è cercare di fare in modo che il Paese ovviamente continui a vivere in questo contesto stiamo cercando di allargare la viabilità per quanto riguarda questo bypass a questa frana che è la via Calfabro sulla via Calfabro la prossima settimana dovrebbero iniziare i lavori per allargare appunto quella strada per renderla più sicura e più stabile perché effettivamente prima era una strada chiusa e quindi sopportare tutto questo carico di traffico era problematico in più stiamo lavorando in concerto con l'amministrazione provinciale per cominciare, penso già non dico domani ma forse lunedì a fare i primi sondaggi su questo spaccato di territorio per capire effettivamente che cosa c'è sotto e per poi iniziare a progettare un'opera che possa in qualche maniera ripristinare almeno anche in maniera iniziale una viabilità provvisoria per far passare il traffico pesante e per cercare di dare respiro al Paese non solo al Paese ma tutta la comunità della zona della Valfoglia che comunque questa strada l'ha sempre usata l'ha sempre servita per le sue attività soprattutto artigianali e commerciali insomma a transitare regolarmente la tavoletana non solo automobilisti, camionisti e corriere ma anche tanti ciclisti italiani e stranieri è molto difficile per noi con la bicicletta non, non è la prima ci sono molte rute che sono dangerous e come si dice Caputo molto, molto, molto a questa purtroppo è una strada che c'era quel pezzo bianco lì c'era che era già 3-4 anni che non lo mettevano a posto c'era un pezzo bianco hanno aspettato che andasse giù completamente adesso ci vuole 10 anni prima di mettere a posto un fosso così ma anche dove abito io a Mercatino sulla destra sopra il Mercatino c'è il lago e di qua la strada sta andando giù ma non fanno niente l'acqua si infiltra piano piano la porta via purtroppo ma le strade sono tutte messe così anche per andare giù verso Casimina qua ci sono 2-3 burroni ma non fanno mai niente la strada cosa è chiusa sopra di qua anche non si passa ormai tocca andare via con la mountain bike via ammortizzata per noi perché le strade venendo qui ci sono delle bu poi arrivano ci sono 4 tedeschi che vengono su facciamo una bella figura facciamo come al solito Tedini e aziende che si sentono particolarmente colpiti nella strada di Calfabro questa piccola strada abbiamo visto che passano anche corriere camion però c'è un'altra strada quella provinciale della Marcella che collega Tavoleto appunto con la valle quindi con la valle del Foglia anche lì sembra che si stia franando sì ci sono anche lì delle criticità all'inizio erano due punti e poi adesso se ne è aperto un altro anche proprio nella frazione della Marcella e lì la viabilità è stata regolata in questo momento a senso ultimo alternato il presidente della provincia ci ha promesso che anche lì in qualche maniera interverranno per ripristinare la viabilità lì sono cose che sembrano meno ovviamente onerose e importanti di questa di questa situazione qua sembra che vogliono intervenire che ci mettano le mani a breve insomma anche su quelle situazioni lì il problema è che il contesto di tutta la provincia è drammatico Tavoleto rischia di rimanere isolato? Speriamo di no penso che con questo ampliamento della via Calfabro dovremmo in qualche maniera risolvere e consentire anche al traffico un pochino più pesante adesso non dico a tutti ma anche il traffico con qualche tonnellata in più di transitare su quella strada fino a che non arriveranno i mesi invernali perché poi sui mesi invernali il problema si porrà stiamo cercando anche con i soldi che ha messo a disposizione l'amministrazione provinciale circa 70.000 euro di intervenire su questa frana in modo da almeno entro l'inverno provare a aprire una viabilità provvisore insomma nel limite del possibile in più per dare un attimo anche qualche speranza in più al fatto che questa situazione possa essere ripristinata in maniera integrale lunedì scorso mi sono recato al Ministero delle Infrastrutture a Roma e abbiamo parlato con il segretario particolare del Vice Ministro e abbiamo avuto anche lì un interesse abbastanza preciso ci hanno indicato quali stradi percorrere ci hanno indicato come fare a organizzare una segnalazione che loro possano poi in qualche maniera prenderla in considerazione e anche non solo con le strutture del Ministero delle Infrastrutture perché in questa situazione non sono competenti ma ci hanno detto di rivolgersi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le strutture di Italia sicura e quindi di fare questa segnalazione in modo in quel frangente di avere una risposta per questa situazione che anche loro capiscono che è veramente insostenibile insomma il nostro viaggio prosegue in questa provincia martoriata a Monte Calvo in Foglia andiamo a vedere com'è la situazione poi andiamo a vedere torniamo sulla frana la frana che ha colpito San Leo Nuovo di Auditore e Fontanelle di Sasso Corvano e anche il territorio di Monte Calvo in Foglia diciamo in questi mesi con questi eventi meteorologici le piogge frequenti improvvise e molto abbondanti stanno causando alle nostre strade delle criticità infatti la strada provinciale partendo da Borgo Massano che arriva a Monte Calvo in Foglia ha vari tratti dove ci sono delle frane che si sono accentuate particolarmente diciamo sì tu dicevi qual è la frana che mi preoccupa sono diverse però diciamo quella che è la strada che io percorro normalmente per andare in comune lì proprio diciamo adesso non mi ricordo il chilometro ma sulla curva c'è proprio una frana molto importante lì in curva che diciamo passandoci regolarmente tutte le mattine vedi vedi la progressione e il accentuarsi delle piogge ha peggiorato la situazione a vedere oggi la situazione di Tavoleto ti dico che mi sento un po' in ansia perché non vorrei ritrovarmi nella stessa condizione perché se succedesse diciamo che la frana chiudesse la viabilità diciamo Montecalvo non dico che rimarrebbe isolato perché comunque abbiamo l'altra strada che scende per Cagallo però crea dei problemi e purtroppo non è l'unica frana diciamo arrivando percorrendo la provinciale fino ad arrivare a Montecalvo ci sono 3-4 punti molto importanti insomma purtroppo il terreno sicuramente è impregnato cioè ha assorbito tanta acqua che non che non ne riceve più e ogni volta crea crea le problematiche cosa fare cosa fare secondo me quello che oggi stiamo ragionando bisognerà che tutte diciamo le istituzioni interessate si coordinino per mettere in piano in atto un programma d'azione comune per non disperdere né energie né risorse e per intervenire su diciamo sulle cause per lo meno cercare di individuare le cause che possono portare a questi fenomeni e cercare di fare degli interventi che prevengano sull'allargamento della tangenziale nel solito punto quello tra Borgo Massani il Grinale nella stazione di servizio lì pensate delle soluzioni avete provato a chiedere anche al presidente che oggi è qua allora sì lì come hai visto ci sono stati i due eventi di febbraio e i primi di marzo che hanno interessato l'allargamento della provinciale questo sai è dovuto al fatto che come dicevo prima poi a un certo punto la diga deve anche allentare il deflusso delle acque ma è anche dovuto che proprio per questi eventi meteorologici il fiume non ha più gli argini in quel tratto non ha argini non ha argini il letto diciamo l'alveo fluviale non è abbastanza ampio perché in questi periodi in questi anni si è riempito di detriti ghiaia e tronchi e tronchi d'albero e perciò la corsa diciamo trova degli ostacoli e quando non trova l'argine sbocca sulla provinciale l'ultimo evento che era quello di Pasqua 6 di aprile diciamo che un buon coordinamento fra l'amministrazione comunale la provincia e il consorzio di bonifica ha fatto sì che passasse senza lasciare conseguenze e senza che si allagasse la provinciale per questo voglio dire c'è stato un buon lavoro e va sicuramente un ringraziamento agli operai comunali e della provincia che sono stati interessati in quei giorni di festa e come dicevo al lavoro di coordinamento che è stato messo in atto proprio per prevenire il tutto abbiamo fatto delle segnalazioni c'è una richiesta d'incontro proprio fatta dal consorzio di bonifica e da noi come amministrazione comunale che ha interessato tutti gli enti anche l'ente provincia per ragionare assieme sulle cose da poter mettere in campo anche in questa situazione per non doverci ritrovare più in queste situazioni perché poi si allaga la provinciale si allagano i campi degli agricoltori perciò voglio dire ci sono i danni anche a chi lavora e spera insomma nel guadagno giustamente nel frutto più che nel guadagno nel frutto del proprio lavoro poi ci sono il crinale c'è il ristorante c'è il distributore di benzina oggi assieme al presidente parleremo anche di questo cioè oltre che a trovare le soluzioni per limitare le frane ma anche per gli interventi sul fiume anche perché questo speriamo sia adesso il momento con minore precipitazioni perciò è il momento questo per intervenire non possiamo arrivare di nuovo quando al periodo delle piogge e siamo appunto da capo i terreni sono prettamente argillosi quindi risentono molto di questa ingente precipitazione che sono verificate anche questo inverno diciamo che i primi due o tre mesi di quest'anno sono stati incredibilmente piovosi nella parte a monte rispetto a dove si è verificata la frana si formano delle specie di laghetti imbibiscono il terreno e poi a un certo punto questo terreno cede sotto il peso dell'acqua e si verifica diciamo tutto questo scorrimento di fango sostanzialmente che scende fino a valle con una certa velocità infatti la mattina di Pasqua insomma è stata una corsa abbastanza contro il tempo per cercare di mettere un po' in sicurezza creando un argine intorno all'abitazione c'è la possibilità che in caso di piogge possa accadere una situazione del genere nell'immediato? allora adesso speriamo intanto che non si riverifichino di nuovo piogge così intense noi abbiamo revocato l'ordinanza di sgombero per quanto ci riguarda e anche per Sosso Corvaro la stessa cosa mantenendo comunque delle prescrizioni quindi eventualmente in caso di forti piogge abbiamo consigliato agli abitanti dei fabbricati interessati di non soggiornare ai piani bassi o ai piani interrati di tenere le auto lontane diciamo dalla zona e di stare possibilmente ai piani superiori in modo che se ci dovesse essere l'emergenza riusciamo comunque a portare via queste persone in maniera agevole poi comunque verrà organizzato sempre insieme al comune di Sosso Corvaro e alla provincia un monitoraggio che in caso di precipitazione diciamo a scadenze orarie molto ravvicinate andrà a monitorare se eventualmente la frana si rimuove oppure no A dieci giorni da questa frana doppia frana che ha sepolto le frazioni di San Leo Nuovo e Fontanelle c'è stata anche l'evacuazione il giorno di Pasqua siamo con il proprietario della casa che è stata più colpita la prima casa dopo dieci giorni com'è la situazione siamo in un mare di fango fango ormai secco ma come sta procedendo? Ah qui da dieci giorni non c'è visto più un'anima non c'è visto più un'anima speriamo che Cristo ce la mandi buona che non piova perché se no siamo basta ho detto troppo ecco tra poco altri cittadini della zona ci hanno detto che sono preoccupati per le possibili piogge di questo fine settimana certo molto molto preoccupati perché se lassù ci sono ancora i laghetti e nessuno è andato a vedere adesso che il tempo era buono andranno forse quando piove dopo si metterà ancora più in emergenza avete paura per voi per gli animali anche per le piante che ne hanno risposto? Pura per tutto ma per il paesaggio che è ridotto lo schifo tu ti affacci la finestra vedi un cibitero un cibitero di fango anche un odore sgradevole esce da questo? fa molta puzza sì io non so perché ma è un terreno o il terreno o animali che sono sotto puzzolente davanti comunque tiriamo avanti vedremo un po' cosa viene fuori speriamo sempre nella buona fede nella fiducia ma una fiducia è una roba seria quest'anno proprio in tre mesi di fatto abbiamo bruciato le poche risorse che sono destinate per la manutenzione però la befe è doppia perché noi l'Emilia Romagna ce l'abbiamo a un chilometro e oltretutto a parte il discorso Emilia Romagna però credo che quando succedono queste calamità perché di calamità stiamo parlando basta vedere le frane di Teoleto basta vedere tutta la nostra frana che abbiamo avuto per Pasqua siamo proprio martoriati ma non solo il nostro comune purtroppo è un pochettino tutta la provincia e questo fa un pochettino rabbia perché la provincia non riesce a dare risposte a causa i mancati finanziamenti della regione la regione dà la colpa allo stato centrale quindi c'è questo scaricabarile che di fatto a noi sindaci che ci mettiamo in prima fila la faccia abbiamo anche la responsabilità oltre che non finisce col fare spallucci non già i soldi della provincia qui ci si rimette proprio la testa a livello di responsabilità perché se dovesse succedere qualcosa la prima responsabilità va sul sindaco e dopo giù per giù il tecnico eccetera quindi non è giusto scaricare questa responsabilità a noi poveri sindaci che riusciamo a sopravvivere con quelle poche risorse che ormai si contano sulle dita della mano io mi auguro che Renzi ci ripensi faccio un appello ai nostri parlamentari abbiamo qui l'Alessia Morani mi auguro che adesso i prossimi giorni intervenga con Renzi affinché faccia rientrare anche la regione Marche sullo stato di calamità perché non è possibile che a un chilometro da qui vengono stanziate dei soldi e noi qui che abbiamo avuto danni per milioni di euro basta pensare la frana di tavoletto come si fa a dire che non abbiamo avuto lo stato di calamità non abbiamo avuto disastri qui si parla proprio di disastri propongo di andare a Roma tutti i 59 sindaci della provincia ma non solo della provincia di Piazzorobino di tutte le 5 province delle Marche dobbiamo andare a Roma a fare una protesta fortissima perché di fatto da qui arrivare a dicembre il nostro comune io guardo il nostro non avremo più le risorse per eventuali interventi è una cosa assurda siamo al 10 di marzo e già abbiamo bruciato quindi bisogna che qui il governo ci dia una mano inoltre che sta a tagliare risorse per poi lasciarsi in un sacco di guai il mio appello è quello lì di unire le forze di tutti i sindaci e anche della popolazione di farci sentire di portare la nostra protesta fino a Roma perché già so la provincia purtroppo gli hanno solamente stanziato 2 milioni e 600 mila euro fa ridere non bastano neanche per la breccia per chiudere le buche è una cosa assurda la regione con i suoi tagli che ha avuto non riesce ad allargire ulteriori fondi alle province quindi bisogna fare pressing sul governo centrale perché la questione è veramente seria si rischia veramente di rimeri isolati perché un'altra settimana di pioggia ci vengono giù tutte le strade questa è la situazione drammatica direi non accetto il discorso che si sono fermate le acque in Emilia Romagna le marche hanno avuto dei danni credo forse anche superiore all'Emilia Romagna quindi se c'è stato uno stato di calamità devono guardare anche le marche la frana di Fontanelle nella frazione di Fontanelle è stato sicuramente un evento drammatico vissuto in prima persona anche con tanto affetto perché voglio ricordarlo io vengo da quella frazione sono stato svegliato la mattina di Pasqua dai carabinieri all'armato e avevo deciso di passare la mia Pasqua a Pesaro non l'ho passata a Pesaro l'ho passata con i miei cittadini sul posto dando a loro indicazioni e quando ho visto il pericolo a ridosso delle abitazioni ho fatto evacuare immediatamente ho chiesto alle persone di andare ai piani superiori di spostare i mezzi rovinando loro anche la Pasqua ma non l'avrei rovinata io l'avrebbe rovinata comunque la frana l'ha rovinata la frana cosa abbiamo deciso di fare insieme all'ufficio tecnici del Comune di Sesso Corvaro e di Auditore insieme ai tecnici della provincia perché abbiamo chiesto consulenza proprio ai tecnici della provincia e ai tecnici della protezione civile a livello regionale di mettere in piedi subito quello che è un piano di primo intervento non si può al momento intervenire sulla frana la frana ha bisogno di un suo tempo di asciugatura di assestamento assestamento quindi però noi al momento possiamo mettere in sicurezza le case quindi abbiamo realizzato un'argine di protezione e abbiamo ripulito il fosso riaperto il fosso permettendo un'eventuale discesa di terreno di non andare più a ridosso verso le abitazioni ma di andare verso il bacino che andremo a costruire questo è l'unico modo al momento che può mettere in sicurezza le abitazioni ed è la prima cosa che possiamo realizzare la cosa che mi rattrista maggiormente è aver appreso proprio in questi giorni che non è stato riconosciuto lo stato di calamità per le marche per il febbraio 2015 e lotteremo per che questa cosa abbia un esito diverso non possiamo subire questi danni non possiamo subire dei danni dovuti alle precipitazioni alle troppe precipitazioni in questo modo qui si tratta veramente di subire non solo di mettere in pericolo i nostri abitanti le nostre abitazioni ma si tratta anche di subire dei danni economici e le famiglie in qualche modo le attività le aziende danneggiate devono essere tutelati dal nostro stato gianna gianna aveva un coccodrillo è un dottore è un dottore